Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si segnala neve in A1 tra Roncobilaccio e Aglio ed è prevista neve tra il bivio con la variante di Valico Panoramica e Roncobilaccio. Guidare con prudenza per la pioggia in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la Statale 1 Aurelia e Infipili lungo tutto il percorso con Grandine tra Ponte d'Arobes, Ponsacco e la diramazione per Pisa e tra Darsena, Toscana Est e Livorno. Grandine anche in A1 tra Arezzo e Monte San Savino e in A12 tra l'allacciamento con la 15 e Sestri Levante. Infine per i treni fino al 10 giugno per lavori sulla linea da Siena a Grosseto il servizio da Buon Convento a Grosseto permane sostituito con bus. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!